Servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dai carabinieri in tutta la provincia di Isernia. Nel corso delle operazioni militari del nucleo radiomobile hanno rintracciato a Sesto Campano un quarantenne di origine rumena ricercato da alcune settimane per una rapina commessa ai danni di un turista nei pressi della stazione Termini di Roma. A segnalare la sua presenza sul territorio della provincia Pentra, i carabinieri di Formello, che erano da qualche giorno sulle sue tracce, segnalazione sfociata nell'arresto del quarantenne rumeno bloccato dai militari Zernini nella frazione di Roccapipirozzi. Dopo le formalità di rito il malvivente è stato trasferito nel carcere di Ponte San Leonardo. Ma il bilancio del servizio straordinario di controllo predisposto dall'arma Pentra nelle ultime ore parla anche di 80 veicoli sottoposti a verifiche, 110 persone identificate e nei casi sospetti di diverse perquisizioni effettuate per la ricerca di armi, droga e refurtiva. Infine, accertamenti amministrativi e in materia igienico-sanitaria sono stati disposti presso otto locali pubblici, mentre 25 sono le persone sottoposte ai domiciliari e altre misure di prevenzione che sono state sottoposte a controllo.